. Chiara Ferragni, pranzo a base di spaghetti con vista Louvre Uno scatto al sole parigino gustando un meraviglioso piatto di spaghetti, servito in maniera chic e raffinata. Chiara Ferragni decide di pranzare con vista sul Museo dell'Uwe, a Parigi, e con lei c'è anche tutta la sua TBS creme. . Chiara Ferragni, gli spaghetti sono raffinatissimi. Dalla Paris Fashion Week arrivano tanti scatti inerenti alle sfilate più glamour, ma non solo, Chiara Ferragni, infatti, allieta ai suoi fan documentando uno dei pranzi più chic di cui si possa essere testimoni. . Con ottima e raffinata cucina italiana, trapiantata in Francia ovviamente, e vista spettacolare sul Museo dell'Uwe. . L'influencer numero uno al mondo, poi, non è da sola, da perfetta team leader porta fuori a pranzo tutta la sua crefite e blonde salade e le pitanze sono davvero eleganti e succulente. . . Che cosa ha ordinato Chiara per la sua pausa dalle sfilate di moda? Il suo è un appetitoso piatto di spaghetti, serviti su un letto di pesto verde al basilico e spolverati con croccante granella di nocciole, almeno per quello che possiamo intuire dalle immagini condivise su Instagram. . 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